la sessualità, ma poi quello che lo tiene legato sono ben altre le cose, non è certo una scopata che lo tiene legato, che lo coinvolge, che lo fa innamorare, sono ben altre le cose che lo tengono legato, che lo coinvolgono, che lo fanno innamorare, quindi devi imparare a gestire questi parametri, devi imparare a valorizzare te stessa e tenere presente che stimolare l'imprinting, cioè andare a capire quali sono tra i sette serbatori di emozioni quelle che governano lui e come sono distribuiti, perché allora ti spiego questo, cara Carampana o Malga Shona, ma poi ovviamente lo spiegherò nel seminario che tu ti abbonerai sul canale YouTube Felicità Benessere con Massimo Tremas che parteciperai, cara Malga Shona, al mio seminario che farò venerdì 24 settembre dalle 20.30 alle 23, perché l'imprinting per te è importante capirlo insomma, perché potrai subito attraverso il tuo linguaggio non verbale, la comunicazione non verbale, andare a stimolare il maschio nel modo corretto. Allora quello che devi fare è tenere presente che ci sono delle aree, le aree esistenziali. Su ogni area esistenziale ci possono essere dei conflitti che hanno generato. Le aree esistenziali sono rapporti con la famiglia d'origine, rapporti con la famiglia acquisita, rapporti sentimentali effettivi, rapporti personali e sessuali, la realizzazione nel lavoro, nel danaro, nella professione, la realizzazione con se stessi, la fiducia in se stessi, l'autostima, la self confidence. E su ogni una di queste aree ci possono essere dei conflitti. Diciamo che i conflitti normalmente partono dalla prima area, dai rapporti con la famiglia d'origine poi si estendono a tutti i duplicati, perché è ovvio che il conflitto diciamo col genitore si ripresenterà spesso nell'area sentimentale effettiva, ma anche nell'area lavorativa ad esempio, portando al conflitto col capufficio. I conflitti che esistono sono di due tipi. Compressione del patos, cioè non riesco a innamorarmi, questo è perché nasce dal tradimento del genitore buono, quello che vorresti che ti amassi, perché l'altro è uno stronzo e non te ne frega niente che ti amava o non ti amava. Il genitore cattivo, no? Il genitore cattivo ti comprime la rabbia, perché ti fa incazzare e tu non potrai, diciamo, reagire. E questo tipo di figura trasgressiva è quella che vai a trovare nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, no? Quello che ti dici ti comprime la rabbia e tu però per paura di perderlo perché ti dà forti emozioni e resti vincolato. Ehi tu puttana, ci vediamo una volta a settimana, non rompere i coglioni, fai quello che dico io, per dire, no? Questo è un modo di fare, diciamo, di uno che ti comprime fortemente la rabbia, perché va a insultare, oltraggiare. Certo che se tu accetti una situazione del genere, adesso l'ho pure esagerato un po', però diventerai succo.